Da giovedì 29 giugno fino al 27 agosto, insieme ai giovedì in terrazza, riprende il servizio del Polo Museale Civico di Giulianova. Un servizio che quest'anno si rinnova, non più solo aperture, quindi non solo ingressi nei musei, ma conoscenza reale, autentica delle nostre collezioni civiche. Grazie a due visite itineranti gratuite che si svolgeranno ogni giorno, dal martedì alla domenica alle 18.30 e alle 21.30. Questa nuova offerta permetterà non solo ai turisti di visitare i nostri musei, chiaramente alla cittadinanza, ma soprattutto quello che abbiamo voluto fare quest'anno è permettere agli operatori turistici di offrire insieme al loro pacchetto quel più culturale che permette al turista di visitare Giulianova.